nuova bentley continental gtc ed è soltanto una delle novità più interessanti di questo parco valentino 2019 andiamo a vedere le altre 4x4 e una sigla che ancora non conosciamo bene ma dal 2020 vedremo molto spesso perché parliamo della renegade ibrida plug-in come suggerisce la presa di ricarica qui attaccata vi dicevo appunto non è un'anteprima internazionale l'abbiamo già vista a ginevra ma qui al salone del valentino è esposta e non solo prenderà parte questa renegade anche alla parata inaugurale parliamo della renegade che conosciamo chiaramente sotto il cofano il 1300 turbo benzina quattro cilindri ma della famiglia firefly che muove però la sale anteriore perché alla sale posteriore invece pensa un propulsore elettrico quindi parliamo comunque di una trazione integrale per questa renegade non sappiamo le specifiche ancora del pacco batteria o del motore elettrico sappiamo però che sarà in grado di percorrere circa 50 km con una carica stesso discorso vale per la compass qui al fianco è attesa anche lei per il 2020 e lo schema meccanico è il medesimo vedete attaccata alla presa la renegade vi dicevo avrà una potenza compresa tra i 190 e i 240 cavalli in base alle versioni 2020 mentre per il 2022 invece vedremo un tutta una gamma elettrificata di fca ma visto quanta roba ci sta 570 litri di capacità minima perché andare veloci non vuol dire stare scomodi anteprima nazionale per la nuova mclaren gt il leone di peugeot muove nuovi passi verso l'elettrificazione non solo la 208 la 2008 totalmente elettriche ma anche il plug-in e qui a parco valentino c'è l'anteprima della 508 ricaricabile due motori quindi 180 cavalli quello a benzina 110 quello elettrico un totale di 225 cavalli per un'autonomia nella sola modalità elettrica dichiarata di poco più di 40 chilometri arriva nelle concessionarie a fine anno l'avevamo già vista qualche mese fa la presentazione internazionale però adesso la cx30 si avvicina alla commercializzazione perciò qui a parco valentino la possiamo rivedere da vicino una lunghezza di 4 metri 39 perciò a cavallo tra la cx3 e la cx5 un design che anche in questo caso sta un po a metà strada perché vedete non è altissime quindi sembra un po un crossover coupé la linea è molto ispirata a quella anche della nuova mazda 3 quindi un bel codo design così lo chiamano che la ricorda tanto con i fali i fanali orizzontali e questo spoiler nero quello che è interessante da un punto di vista stilistico secondo me è questa bella plastica grezza che le da un tono diciamo muscolare e poi così i parcheggi non sono un problema arriva vi dicevo alla fine dell'estate con un prezzo di 24.750 euro e sarà disponibile con motori a benzina ibridi e diesel e con la trazione sia sulle ruote avanti oppure con la trazione integrale non vediamo l'ora di provarla bisogna mettere che a zufe e nausen hanno davvero fatto centro per quanto riguarda il design di questa cayenne coupé che a tratti ricorda la macan in altri punti invece la 911 ad esempio con questo bel movimento della finestratura le dimensioni sono simili a quelle della cayenne che conosciamo ma è stata chiaramente abbassata per questa silhouette di due centimetri circa anche il bagagliaio è un pochino più piccolo si parte da 600 litri che possono diventare 625 in base alla alla versione che si sceglie mentre invece qui vi faccio vedere che i posti a sedere sono tre chiaramente più comodo per quanto riguarda i due occupanti della delle file laterali ma poi vi parlo dei motori perché vi dicevo appunto ci sono due configurazioni la prima è quella con un 3000 v6 da 340 cavalli con un prezzo di partenza di circa 87 mila euro e poi si sale a questa che è la turbo quindi la più performante 550 cavalli e un v8 4000 di cilindrata qui il prezzo di listino parte da 151 mila euro la scala è una delle novità più interessanti di quest'anno ci state chiedendo tanti in tanti il perché comprarla e lo pubblicheremo tra qualche settimana massimo nel frattempo l'ha già provata perciò andate a vedere il suo video però l'anteprima nazionale qui è per la superb iv e cioè per la versione ibrida plug-in della ammiraglia del brand che ha approfittato del restyling di metà carriera per introdurre appunto una versione elettrificata che riesce a fare fino a 55 chilometri nella sola modalità elettrica consegne previste per settembre 2019 per la nuova clio che ha dei prezzi che partono più o meno da 15 mila euro abbiamo scritto un articolo dedicato andate a darci un'occhiata 15 mila euro per un'auto che è tutta nuova può sembrare diciamo molto imparentata con la generazione uscente questo chiaramente è voluto perché è un'auto che ha avuto tanto successo ma è tutta nuova a partire dalla piattaforma che adesso prevede anche una versione elettrificata ibrida full hybrid quindi non soltanto motori a benzina sia aspiratiche turbo o diesel ma anche appunto una combinazione tra un motore a benzina e uno elettrico tanta tecnologia a comincere dai fari full led di serie su tutti gli allestimenti ma il salto in avanti più importante rivoluzionario se vogliamo è quello degli interni lo schermo lì in verticale supera i 9 pollici di diagonale ma in generale tutta l'atmosfera la qualità percepita aver fatto un passo in avanti massimo l'ha già provata perciò andate a vedere la sua prova ok non è una novità in senso assoluto ma al salone del valentino la tesla model 3 sta riscuotendo tantissima curiosità e in più l'occasione quella giusta per presentare la standard range cioè quella con l'autonomia di circa 415 chilometri secondo le norme di omologazione i dati di le prestazioni sono piuttosto interessanti 5,2 secondi per coprire lo 0 100 e 225 chilometri orari di velocità massima il prezzo è di circa 48 mila euro però considerando l'eco bonus riesce a scendere un pochino ed è molto interessante anche il fatto che nella dotazione sia compreso l'autopilot e quindi il sistema di guida semi autonoma che ci solle spiegasse per soldi che sia il migrare citare un progetto